E per chi si fosse collegato solamente adesso ragazzi sto facendo una challenge data dalla ruota della sfortuna che mi obbliga a non poter prendere materiali è veramente un cavolo di casino Questi tre medikit però potrebbero essere utili Vediamo se per caso Aspetta non saranno in safe però Non sono in safe i pupazzoni Me per un pelo raga non sono in safe i pupazzoni Qua c'entra un p90 Ora vero cechinato malamente Non mi costo il p90 dammi questo p90 Potrebbe essere indispensabile Sta arrivando la safe 50 secondi mi serve il p90 Dammi il p90 dammi il p90 Non me lo dà il p90 non me lo dà Non me lo dà Vai 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 Ok Non ti muovere Non ti muovere Nessuno lo sa Nessuno lo sa Con calma Nessuno lo sa Siamo in 5 Attenzione abbiamo già visto Che possono succedere cose Molto interessanti Con questa tecnica ragazzi Ah ma non rompetevi il cazzo Ma stiamo scherzando Merda 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 Ok non mi stanno più seguendo easy Vai 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 Se non mi vedono C'è un tipo là Magari non si è accorto Che questo pupazzo di neve Prima non c'era Non credo se ne sia accorto Non credo Non se ne è accorto Non se ne è accorto Ma quel pupazzo Prima c'era O non c'era Attenzione Siamo in 5 Mi sa che sta anche Fightando con qualcuno Oppure ha semplicemente Sbagliato l'editing La situazione si complica notevolmente ragazzi Hanno gli shieldini Ma se li uccido mi sentono Cominciamo a fare un leggero spostamento Così il tizio Non possiamo però focussarci solo su quello eh Teniamolo controllato così quello Lo vediamo proprio sull'angoli Non si è accorto Non si è accorto Siamo in 4 Con calma Non c'è fretta Sul cucuzzolo Della montagna C'è un pucazzo Grande così 4 giocatori rimasti ragazzi Challenge No Mazz Si sparano in 2 di là Quindi rimarremo in 3 tra pochissimo Il tipo là Ha veramente una posizione Invidiabile Invidiabile Però Il mio pupazzone Messo qua Non desta troppi sospetti Lui non si accorge Io non mi muovo Tutto va bene I tizi non mi sparano Ce ne sono ancora 3 in giro ragazzi eh Sento che si stanno proprio fightando a sinistra Non posso muovermi Non posso muovermi comunque Sono notevolmente preoccupato per questa cosa Vai Si chiude la Dimmi che siamo fortunati Lui scende Lasciamolo concentrato sui tizi Non ho ancora visto il pupazzone Siamo in 3 Ora Più che lui Mi preoccupa l'altro Non so dove sia Uè Rimo Buongiorno Lui è in safe Andiamo a cercare un movimento Che non desti troppi sospetti Vai 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 Adesso 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 Vai 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 Non Potrebbe averlo scoperto Non ti muovere 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 Trippi Non ti muovere Non ti muovere non ti muovere non ti muovere attenzione siamo ancora calmi 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 ancora in tre mi sono nascosti benissimo direi sto facendo un errore che devo ovviare subito questa cosa è molto interessante non ti muovere 1v1 attenzione non sa non sa non sa o adesso adesso aah aah grande Chiude E la chiude Senza Materiali Wuhuu Grande Pronto Mamma mia Ragazzi Mamma mia Ragazzi Non avrei mai pensato di riuscire a chiudere Una challenge così Difficile Chiude